Si è conclusa nel fine settimana l'edizione 2023 di Chioggiavela, la rassegna ideata 12 anni fa dal Circolo Nautico Chioggia, con l'obiettivo di dare vigore alla centralità della vita di mare nella nostra città, che tradizionalmente, culturalmente ed economicamente è legata al mare in modo indissolubile. Sabato 23 si è tenuto il main event della Kermess, che non ha deluso le aspettative. Oltre a una quarantina le imbarcazioni che si sono ritrovate sulla linea di partenza per prendere parte al percorso che si conclude tra le dighe della bocca di porto di Chioggia. Grande spettacolo ed una sana rivalità tra le imbarcazioni in regata. Meteor al Crepuscolo ha chiuso il grande sabato di sport targato Chioggiavela, la regata al tramonto nel bacino di Vigo, con una quindicina di monotipo presenti. In attesa della cerimonia della premiazione, domenica mattina, il Trofeo Metro Sharing ha dato la possibilità, grazie anche alle imbarcazioni messe a disposizione dall'organizzazione, di cimentarsi nella classe che vede in quella di Chioggia una delle flotte più numerose ed attive d'Italia. Presente alla premiazione il consigliere Marco Dolfin, che ha portato i saluti della regione del Veneto, e il vice sindaco e assessore allo sport del comune di Chioggia, Daniele Tiozzo, che ha sottolineato come Chioggiavela sia diventato uno degli eventi più grandi e rappresentativi del territorio. A fare gli onori di casa il presidente del circolo nautico Chioggia, Corrado Perini, che ha spiegato come in queste manifestazioni non ci sono sconfitti, ma se quest'anno vogliamo proprio trovarne uno, è certamente il meteo. Siamo infatti riusciti a portare a termine tutto il programma, ha affermato, nonostante le provisioni meteo davvero proibitive. È stata una delle edizioni con numero e qualità in crescita, e questo ci porta ad essere particolarmente soddisfatti. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito veniswaterlink.com